La Serbian Dancing Lady è ancora viva! Infatti molte persone stanno continuando a pubblicare video di loro che la avvistano. Infatti ho guardato un po' di video di gente che stava scappando dalla Serbian Dancing Lady perché è pericolosa e caccia le persone. Questo è il canale. Questo tizio sembra aver ripreso la Serbian Dancing Lady mentre camminava, mentre faceva parkour. Vi ho messo anche l'audio così potete sentire. Sentite come ovviamente tutto spaventato, ma anch'io lo sarei. Allora, vediamo esattamente il punto dove ha visto la Dancing Serbian Lady. Guardate che è pericolosissima questa cosa. Perché potrebbe essere che lui... Cioè, ci siano capiti? Spero di sì. Allora, mi sembra in un palazzo c'è stato uno stacco. Cos'è successo? Cioè, ha tagliato il video per un qualche motivo. Dov'è qua? È tutto in un appartamento... Malandato, senza offesa. Però, insomma, mi sembra un po' disordinato. Forse sarà stata la Dancing Serbian Lady. Non credo. Mi sembra strano. Però è veramente interessante. Oh mio Dio! Mmm. Cos'è successo? Gli si è spenta la luce! Oh mio Dio! Come ha fatto? Secondo me è stato qualcuno di là. Cioè, probabilmente la Dancing Serbian Lady. Oppure, magari... È tutto fake. Cioè, spero di no. Cioè, anche perché poi il signore mi sa che può vedere la mia reazione al video. Quindi, è importante che io non dica troppe cose cattive. Lui praticamente non riesce ad accendere la corrente. Raga, ma si sente una voce. Chi è questa qua? Non può essere lei. È lei. Oh mio Dio, raga, cos'è sta cosa? Non lo scappa, ma... Allora, io mi chiedo. Cosa stai facendo fermo qua? Ma... Ma perché sta fermo qua? Ma vattene via! Ma scappa! Ma... C'hai una pazza psicopatica malata di mente in casa. Che vuole farti sicuramente fuori. E tu stai in casa. Con una torcia in mano. Sì, ovvio. Succede spesso. Poi c'è sta musica che sta iniziando proprio a rompere le scatole. Cosa succede? Mi sa che c'è qualcosa di che non va, vero? No, è... E no, è... Non mi dire. Ma raga, ma si sta muovendo la porta. C'era... O c'era qualcuno dietro. Oppure la Dancing Serbian Lady. Forse... È... Tipo il suo spirito? Può essere? Oh mio Dio. C'è la musica che sta diventando sempre peggiore. Cioè, è sempre più paurosa. No, è... Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Oddio, che spavento. Scappa, 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 scappa. Così. Come ha fatto... No, 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 raga. Questa cosa non va bene. Non è normale. Non è... Avete visto? C'è tipo teletrasportata. Come ha fatto? Come ha fatto? Veloce sto ascensore che gli ascensori fanno sempre così. Quando c'è un pericolo non si chiudono. Invece si chiudono quando non devono. Tipo quando stai aspettando per andare a prendere la spesa. Non importa. Comunque che pizza gli ascensori. Adesso magari si blocca pure gli entra la Dancing Serbian Lady nell'ascensore. Volete vedere? Per fortuna è potuto uscire. Bene. Almeno questo direi... Cos'è stato? Non può aver visto questa cosa, raga. Non è che le cose ti si teletrasportano davanti e vedi cose. Però bravo, scappa. Vai via. Vai via. Mi raccomando, stai al sicuro. Proteggiti. Perché la Dancing Serbian Lady può essere alla tua ricerca. Anzi, sicuramente ti starà cercando. Quindi è importante che tu stia al sicuro. Vai, scappa. Ok, ok, ok. Probabilmente sarà anche molto stancante. Oh no, è qua. Poi sentite la sua risata antipatica. No, 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 no. A parte che aveva le scarpe da ginnastica. No, no, scappa. Scappa. Oh mio Dio. È lì che lo sta... Eh vabbè, ma ce ne sono due. Una con all'amodipo, con le scarpe Adidas. E un'altra... Entrambe con le scarpe Adidas. È assurda sta cosa. Scappa. Scappa. Non stare qui. Ma come fanno, scusami, a teletrasportarsi più velocemente di lui? Non va. Cioè non è normale questa cosa. Non capisco come può essere possibile questa cosa. O sta facendo tagli lui, dico tagli del video dove praticamente loro vanno avanti. Oppure magari ci saranno altre persone che staranno facendo questa cosa. Oppure è veramente la Serbian Dancing Lady che lo sta cercando. Anche perché ce ne sono di più. Cioè si sono messi tutti quanti insieme, tutte quante le Dancing Serbian Lady. Non è che ce ne è solo una al mondo, ovviamente. Perché poi dopo, quando ne esce, insomma, una creepypasta come questa, i pazzi iniziano a copiarli. E praticamente possono succedere queste cose, no? Che tipo si trasformano in questi mostri. Cioè fanno finta di essere questi mostri. Anche se non sono l'originale, comunque possono essere comunque pericolosi, ovviamente. Quindi, stai attento. Madonna mia. Cioè, sono stanco per lui. Non fa altro che correre, poverino. Io mi chiedo come fa ad essere ancora vivo. Perché io sarei già morto. Ancora. No. Ma cosa cadi? Non cadere. No, vabbè, ma dai, ma non è possibile. Ma si teletrasportano, raga. Ma secondo voi è vera sto video? Cioè, ditemi se secondo voi questa cosa è possibile e se è vero, seria o fake secondo voi. Perché non capisco, cioè. Ci sono alcune cose che mi fanno dire è vero. Altre cose che mi fanno dire no, è impossibile. Tipo che si teletrasportano. Dai, non so se è possibile questa cosa in realtà. Però boh, magari, non lo so, magari sono tipo entità strane. Magari la Denson Sebel Lady non è nemmeno umana. Chi lo sa? Cioè, tutto può essere in questi casi. Comunque, lui sta riuscendo a scapparsene. Si spera anche perché... Vabbè, più o meno. Perché poi lei si teletrasporta. Chissà se ci sono delle regole, tipo. Cioè, chissà se tipo può teletrasportarsi. Solo in certi casi. Comunque, adesso la musica... Cioè, tipo, i suoni stanno sempre più aumentando. Quindi, secondo me, stiamo arrivando ad un punto di climax. Si dice che sarebbe tipo un punto di svolta dove succede un qualcosa di assurdo, probabilmente. Forse, non lo so. Magari mi sbaglio. Ok. Dimmi... Mamma mia, la musica, raga, però. Cioè, che ansia! Ok, qua ci sono dei monopattini. Eh, forse riesce a scappare con questi. E prima vi stavo dicendo, chissà se la Serbian Dancing Lady può tipo teletrasportarsi come vuole lei. Oppure ci sono delle volte in cui non può teletrasportarsi. Tipo, non lo so, entro un certo raggio, magari. Di distanza. Oppure, cosa ne so, se c'è tipo vicino, se c'è tipo... Non so, del marmo, ad esempio, no? È un esempio. Ok, ci sono loro, ovviamente, però... No, hanno preso il triciclo, là, il coso, il monopattino. Oddio! Oh mio Dio, no, scappa, scappa. Eh, che succede? Perché... Sì, non mettere le mani davanti. Ho capito, ma scusami, ma non chiami la polizia, però. Cioè, dovresti chiamarla in questi casi, no? Invece che correre, perché... Se si teletrasporta, non è che puoi farci molto. Vediamo se succede qualcosa oltre a correre, perché... Potrebbe succedere effettivamente qualcosa di... Eh! Forse, forse l'hanno perso? Forse l'hanno perso? Eh, stanno facendo il balletto! Oh mio Dio, ma... Mi fanno un po' ridere quando fanno il balletto, no? Vi immaginate? Però sono anche spaventose. Oh no, stanno facendo tipo... La Naruto Run. Assurdo! Bene, 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 hanno ripreso il triciclo, l'ha ripreso, cioè il monopattino. Adesso scappa di nuovo, vai, vai, vai! Sì, ma tanto queste si teletrasportano, che cazzo... Eh, scusa, oddio! Mi devo ricordare di tagliare! Ho detto una brutta cosa che non dovevo dire, mi sa. Però stavo dicendo, che cavolo dovrebbe scappare lui se... Si teletrasportano. Non può scappare. Perdonami, eh! Non si può scappare, oddio! Non si può scappare! Vedete, forse questa era la Dancing Lady che mi ha posseduto la voce. C'è il signore che mi sa che è ignaro di tutto quanto. C'era quel signore che stava... Era di passaggio, che non sa cosa sta succedendo... E dovrebbe effettivamente stare attento alla Dancing Serbian Lady. Che succede? Non va più avanti? Cosa succede? Scappa! Scappa! Oh mio Dio! Perché la musica sta diventando sempre più incalzante? Sempre più paurosa? Sempre più... Strung! Sbrang! Sbrum! Che vuol dire paurosa, appunto. Eh... Ok. Attenzione. Perché qua... Mi sa che succede qualcosa. Non lo so, la musica mi dice che sta per succedere qualcosa. Perché c'è tanto di quell'ansia in giro con sta musica. Che continua ad aumentare sempre più. Anche perché immaginate lo senza musica. Cioè si vede lui che corre e basta. Invece con la musica è tutto più wow. Però... Mmm... Beh, cioè nel senso, tu stai scappando dalle Dancing Lady di Serbian là. E quindi... Cioè vorrei capire se in effetti arriva ad un punto di svolta. Cioè se succede qualcosa per cui lui riesce a sconfiggere le Dancing Serbian Lady. Lui magari... Non lo so. Magari le Dancing Lady lo prendono e lo ammazzano. Tipo... Può anche succedere anche questa. Un'evedienza molto brutta ma può succedere. Però vorrei vedere effettivamente qualcosa. Non tu che corri per tutto il tempo, scusami. Anche se è molto pericoloso. Mi spiace per te. E ancora! Mio Dio! Che pizza! Quanto dura! Madonna mia! Ma non finiscono mai! Cioè qua o lo prendono o... Non so perché se no... Se no dobbiamo andare avanti con i video perché... Doviamo capire cosa succede. La Dancing Serbian Lady che ha ballato e lui ha lanciato la torcia. No! E l'hanno catturato! E mo come fai zio? Oh mio Dio! Come fa adesso raga? E' bloccato? Sei bloccato? Allora... Oh no! No 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 no! Cos'è? Ok continua. C'è solo la parte 5! E dove è la parte 6? E mi sa che dovevamo vedere prima tutte le parti. Vediamo ora invece come ha incontrato la Dancing Serbian Lady. Direi che è più che legit questa cosa. Vediamo se succede qualcosa. Ovviamente cerchiamo di tagliare se è possibile. Però vedete qua? C'è la Dancing Lady e sta ridendo in modo inquietante. Ah! Ecco come ha fatto ad incontrarla. Cioè praticamente lui... Era una persona di buon'anima. Ha visto una che ballava in mezzo al coso? Ha detto ma tutto bene? E non doveva farlo. Oh mio Dio! Ma come fai ad arrampicarti raga? Ma è un pazzo! Ma raga ma è fuori di testa! Guarda come fa! Ma poi... Perché l'hai fatto allora se non... Non ti arrampichi? Va vabbè! Vai scappa! Oh mio Dio! Guarda raga! Non fatele! Non ripetete minimamente queste azioni... Che vedete in questo video perché sono pericolosissime. Possono portare... Se vedete potete cadere. Cioè ovviamente è... Cioè meglio non provare queste azioni. Mi raccomando eh! È importante però... Lui che è un esperto le può provare. Le fa per scappare dalla Dancing Lady. Soprattutto in una situazione così pericolosa come questa. È giusto che lo faccia. Ciao! È lì! Si sta avvicinando! Comunque a volte si ferma la Dancing Lady. E fa i suoi balletti. Comunque non mi sembra! Ehi! È una truffa eh! Non mi sembra... Mi sembra un uomo questo. È palesemente un uomo raga. Cosa fa? Ve l'ho detto. Questi qua... Magari ci sono dei pazzi che provano... A diventare... Le cose che vedono sui social no? E quindi magari... Capito? Possono succedere brutte cose. Però adesso cosa è successo? È diventato tutto nero. Assurdo. Assurdo! Cosa succede? Dai per favore vai! Ti prego! Guarda... Smetto di parlare in corsivo. È che... È una situazione un pochino... Tragica. Quindi sto cercando di sdramatizzare. No? Dovrei cercare di sdramatizzare... Parlando un pochino in corsiavo. O per me di dire in corsiavo. Oh, basta. Scusatemi. Però... Ok. Adesso sta scappando. È stato molto sterto il signorino. Allora. Ultimo video. Praticamente... È il canale questo qua. È praticamente... Lui sta qui alla fermata dell'autobus. E questa è la prima parte. Mi sa che ci vedremo solo la prima parte. E se vi piacciono questi tipi di video... Questi tipi di reazione... Continueremo con le altre parti. Allora. È tutto molto tranquillo per ora, devo dire. Non c'è niente di strano. Dice... Ah, un biglietto. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo. Ce l'ha sul telefono il biglietto. Bravo. Sempre pagare i mezzi pubblici. È importante. Ah, dice che pizza aspettare. Non mi piace proprio. Eh, hai ragione. Ok. Guardiamo se c'è il pullman. Come il bus è stato cancellato? Ma sei impazzito completamente. Devi camminare, poverino. Mi spiace. Dovrà camminare per tipo tre ore. Oh, grazie mille, signore. Mi ha lasciato passare. Ok. Chissà in quale città si trova questo tizio. Sta parlando in inglese. Secondo me è un po' in inglese americano. Quindi può essere in effetti... Che magari in America. Anche se mi sembra starà... La Dancing Serbian Lady! Oh mio Dio! Questa è la vera. Mi auguro perché... Questa ha le scarpe Nike invece. È importante sempre restare alla moda, no? Scappa! Scappa! Oh mio Dio. Bravo, bravo. Scappissimo. Bravo. Vai via. Ok. Bravo. Bravo. Così ti voglio. Devi scappare per la tua vita. Scappa per la tua vita. Devi salvarti. Ok. Sembra che forse è riuscito a scappare. Cos'era? Un ratto quello? No. Forse era un gatto. I gatti neri portano sfortuna. Si dice. Non credo sia vero. Però si dice così. Ok. Sta entrando in casa sua forse. Spero. Mi auguro. Perché sennò è entrato in casa di un'altra. E non può. Però immagino sia casa tua. Sua. Quindi. Dice. Stiamo a posto. È tutto ok. Dovresti chiudere. La porta. Perché mi sa che è entrato senza. Senza chiudere la porta. Dice che gli serve un po' di acqua. E bere. Bevi. Soprattutto perché ti servirà bere. Oh no. È tornata. Vedete. Secondo me lei. Vedete. Ha anche messo il post su. Snapchat o su Instagram. Non so cosa sia. Credo sia Snapchat. E secondo me. Lei. Prende di mira una vittima. E inizia a seguirla. Fin quando non. Bravo. Lui sta chiamando la polizia. Bravo. Bravo. Dice. 911. Qual è la tua emergenza? Qualche psicopatica mi sta. Seguendo. Tipo. Lei sta ballando. Ha detto il signore della polizia. Dice. Scappa il più velocemente possibile. Scappa. No mi scusi. Però la polizia dove me la dovreste mandare. Sono in pericolo. Dove cazzo. Cioè. Poi come fa ad entrare in casa mia se è bloccata la casa? Non può. A meno che. Oh no. Eh ma certo devi stare in casa. Scusami. Come ha fatto? Oh mio dio stava per ucciderlo. No 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 raga. Raga no. È pericolosissimo. Questo video mi piace un pochino di più. È pericolosissima sta storia. Oh mio dio. Oh mio dio. Ok. No no. No 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 no. Salta. Salta. Ok. Ok. È lì che balla. Perché non può prenderlo. Come non detto. Può prenderlo. E come? Dai la Dancing Lady che sa fare parkour. Non va bene questa cosa. Ma comunque. Registrare sto video è stato tipo. Pericolosissimo. Mio dio. Perché quello mi sa che è abbastanza vero. Come coltello. Non so se. Mio dio. Scappa. No no no. Ti prego. No ti prego. Scappa. Scappa. Ti prego. Vivi. Scappa. Dice cosa vuoi. Tranquil. Non. Riposati. Cioè. No nel senso. Dice cosa. Cosa sta facendo. E niente. Ovviamente lo attacca. Ma certo. Perché non è che puoi parlare con la Dancing Lady. Magari si potesse cercare di far ragionare. Ma lei non vuole. Lei ti vuole solo uccidere. Purtroppo. Ah. Ce l'ha fatta. Si è nascosto. E lui dice. Cosa. Come è possibile. Cosa. Cosa faccio ora. Ha detto. Eh. Cosa fai ora. Bella domanda questa. Dove è andata. Ha detto. Guarda. Secondo me. Tornerà. Ho questo presentimento. Però mi auguro di no. Ok. Riposati. Perché giustamente. Sarai stanchissimo. Ha corso per un sacco. allo. All'inizio.